ciao a tutti ben ritrovati nella nostra rubrica dieci minuti di il vapor perfetto chi è esiste è possibile diventare vapor perfetto sì e la cosa più bella è che chiunque di voi al suo interno ha il vapor perfetto cosa intendo per vapor perfetto il vapor perfetto è colui il quale riesca a trovare nel suo atomizzatore nel suo vaporizzatore personale la stessa soddisfazione facilità d'uso familiarità e tranquillità che aveva con il suo vecchio vizio del tabaggismo quando si era fumatori si aveva il proprio pacchetto di sigarette il proprio brand di tabacco trinciato e guai a uscire da quel da quel tracciato quando vi trovavate a dover chiedere sigarette perché rimanevate senza era sempre un po una roulette russa spesso e volentieri fumavate col volta stomaco perché vi era stato offerto una sigaretta che vi faceva schifo perché voi avevate il vostro pacchetto di sigarette avevate il vostro pacchetto di trinciato di tabacco che era il vostro che aveva creato la vostra comfort zone e che per voi era il punto di riferimento di quel momento che vi ritavagliavate nel quale secondo voi rilassarvi e farvi del bene e invece vi stavate ammazzando perché come sapete il fumo combusto il tabacco produce svariate migliaia di sostanze tossiche delle quali molte cancerogene quindi il vapor perfetto è proprio quel vapor che riesce a ricrearsi la propria comfort zone del proprio vizio il vapor perfetto il vapor che utilizza un tipo di vaporizzatore un tipo di atomizzatore un tipo di liquido quello è il vapor perfetto perché il vapor che la mattina si alza riempie il proprio serbatoio e affronta la giornata e questo vale tanto per lo svapo rigenerabile che per lo svapo non rigenerabile il vapor perfetto è il vapor che non si perde in 13.550 aromi diversi in decine e decine di atom diversi lascio stare trascuro il discorso box perché quello è veramente puramente un discorso estetico e quindi a un certo punto si trova nella condizione nella quale ci siamo trovati tutti noi vapor di non saper più cosa volere di non capire più quale sia realmente il nostro svapo preferito il che è una cosa abbastanza imbarazzante perché ci porta fuori dalla comfort zone del vizio ci porta in una dimensione nella quale non sappiamo più cosa svapare nella quale ci sembra che qualsiasi cosa inaliamo qualsiasi liquido proviamo ci sembra comunque essere difettoso in qualcosa non ci soddisfa non ci piace ci stufa dopo un po' non lo sentiamo questo problema nasce proprio dal voler eccedere in tutto ed in tutte le direzioni cosa voglio dire se siamo abituati a svapare in maniera compulsiva un determinato liquido potrebbe succedere che dopo un po' voi non sentiate più bene quell'aroma basterà cambiarne provarne un altro ma il punto d'arrivo del vapor perfetto l'essenza del vapor perfetto è quello di non avere più neanche questo problema come si arriva a diventare un vapor perfetto beh c'è chi ci arriva subito nel senso che conosco tante persone mia madre compresa che hanno cominciato a svapare dopo 50 anni di fumo un determinato liquido su un determinato device e non si sono più spostati da quello quella è la categoria dei privilegiati i vapor perfetti privilegiati quelli che sono un po' paragonabili al biglietto della lotteria che vinci ok al al gratte vinci da 100.000 euro ce ne sono sono pochi ce ne sono noi cosa possiamo provare a farlo in questo senso possiamo provare a diventare il vapor perfetto e lo possiamo fare attraverso un unico sistema che è quello di provare realmente e con attenzione di testare con attenzione tutto ciò che acquistiamo presi dalla felicità dalla curiosità da quella che nel gergo del vaping è stato che poi è un termine prelevato da altri e meno felici ambienti quello della scimmia spinti dalla scimmia della curiosità dell'acquisto eccetera dobbiamo riuscire a capire realmente cosa vogliamo dobbiamo quando acquistiamo un prodotto testarlo per bene se svapiamo 6 7 8 atomizzatori diversi con liquidi diversi e magari rigenerati tutti nella stessa maniera o ognuno in mappeggio ancora in maniera diversa avremo una confusione in testa totale ma dovremo passare anche da quella fase dovete provare secondo me massimo 3 4 atomizzatori alla volta buildarli in maniera differente capire quale dispositivo vi soddisfa di più quale liquido vi soddisfa di più anche a lungo andare anche imponendovi per intere giornate di svapare quel liquido e arriverete piano 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 ma se passate del tempo a fare diverse rigenerazioni diversi esperimenti con i vostri dispositivi a capire qual è il vostro atomizzatore preferito il vostro liquido preferito e vi piazzate su quello poi do sempre il consiglio di svariare con gli aromi per tenere le papille gustative degustative attive ma quello è un discorso a parte diventerete vaper perfetti quando avrete chiuso il range dei vostri atomizzatori non dico ad uno perché lì veramente siamo alla fase top e ci sono ci sono quei vapers e generalmente sono i vaper entry lever sono quelli che fregandosene altamente di tutto lo scibile del vaping e di tutti i fantastici meravigliosi ammennicoli che escono sul mercato hanno provato il loro generalmente un non rigenerabile alcune volte una pod e si fermano lì quindi per loro c'è forse più possibilità di diventare vaper perfetti in breve tempo per chi invece più esigente è ed è passato al mondo dei rigenerabili dovete fare una ricerca su voi stessi e sui vostri ammennicoli non comprate compulsivamente 12.000 atomizzatori compratene pochi alla volta ma testateli per settimane per mesi in tutte le loro maniere in tutte le loro possibilità con tutti i tipi di rigenerazione con tutti i tipi di liquidi ovviamente i liquidi che vi piacciono e vedrete che col passare del tempo ci potrà volere un anno due anni tre anni arriverete al punto di sapere e di avere un range ridotto di liquidi che vi piacciono e un range ridotto di svapo che vi piace nel quale rientra anche quanta ariosità a quanta ariosità volete svapare a quanta temperatura volete svapare se volete svapare in controllo di temperatura se volete svapare in vari watt se volete più vapore se volete più colpo in gola tutte queste cose le scoprirete studiando ma non studiando sui libri applicandovi ai vostri vaporizzatori facendo i vostri esperimenti facendo i vostri test giornalmente al posto di seguire le mode seguite un percorso lineare nell'utilizzo dei vostri ammennicoli arriverete poco alla volta a stringere il campo di tutti gli ammennicoli che avete fino ad arrivare vi ripeto a un range di tre quattro dispositivi massimo nei quali avete creato la vostra comfort zone dei vostri tre quattro liquidi massimo nei quali avrete creato la vostra comfort zone e lì sarete già a un passo dal diventare il vapor perfetto quello che dice non ho problemi la mattina mi alzo mi metto il mio liquido mi faccio la mia rigenerazione e affronto la giornata senza troppe pippe mentali ma la vostra comfort zone alla vostra nuova comfort zone rispetto al tabacco combusto dovete arrivarci applicandovi ogni giorno a capire quale dispositivo sia per voi più gradito